Riesce a mettere il pallone in mezzo, da Cruz è tagliato fuori dalla traiettoria, c'è Rigoni, Baraje, ancora Di Marco si sovrappone, Baraje, che traiettoria di Yves Baraje, che va a fare davvero a sfiorare il palo alla sinistra di Raffaele. Siamo in linea con Baraje e si è visto subito che la traiettoria di Yves Baraje sarebbe stata pericolosa per il portiere avversario, così è stato.